ragazzi arriviamo ai 5 like per un prossimo video sui meme buongiorno caffè a tutti ragazzi come avete detto dal titolo oggi raggiungo ai meme di uno youtuber andiamo avanti a vedere questi meme è un semplice video su youtube vi lascio il video originale in descrizione o nel primo commento ok ragazzi iniziamo da questo sapete perchè loro due si metteranno insieme? perchè lei l'ama e lui pure iniziamo bene no vabbè ragazzi ehi guarda qui oh no ci sono cascata ma perchè io pure che gli do ste fattute di meme ciao ragazzi sono un cartone animato e io dopo di questa mi vado a buttare dal balcone andiamo avanti ciao mario non ti sento bene forse non ti prende il telefono no no non sono io il mio cellulare fa benissimo perchè qui c'è campo vabbè te la conoscevo aspetta ragazzi un attimo andiamo avanti amore finalmente potremmo vederci e abbracciarci dove ci incontriamo a brindisi vabbè questa già la conoscevo almeno dottore cosa ho? come puoi vedere dalla lastra lei è una frattura composta ah raga andiamo avanti uffa ho finito i soldi cosa fai per arrotondare? mangio c'è uguale qual'è lo stato americano dove i gatti navigano in internet? il connecticut ma vabbè ciao come ti chiami? mi chiamo mario io sono luca che bello è sempre un piacere fare conoscenza e va bene Io parlo tre lingue Complimenti, quali? Di mattino parlo italiano Di pomeriggio parlo inglese E di notte? E di notte russo Va benissimo Credi nel signore? Certo che sì, sono gattolico Va bene, ragazzi I canguri vogliono farci guerra Dobbiamo qualizzarci Va bene Sedere, avevi detto che mi amavi Invece mi hai mollato E dopo di questa Mi vado a sparare direttamente Mi hai mollato Chi va da? Forza, per oggi ho visto Andiamo avanti Come mai sei triste? Non sto bene Oggi mi sento a pezzi Eh, va bene pure Che cavolo è sta cosa? Che brutto periodo Ho perso il lavoro E mi è venuta una macchia nera in testa Sei in una situazione precaria Papà, le puzzette pesano? No Allora mi sono fatto la cacca addosso Sai che giorno è oggi? È domenica No, oggi è il mio compleanno Oh no, scusami Mi sono scordata Ti andrebbe di uscire? No, ho già un ragazzo Non intendevo questo Sei entrata nel bagno dei maschi Dovresti uscire? Veloce, fai la battuta Ok, come si chiamano i parenti Dell'uomo indesibile? Trasparenti No, no, no Se non lo so Cacca va bene Pibro, come fai a non sentire freddo? Perché ho la copertina Ehi, chi sei? Sono Iva Posso mangiarti? Certo che no Perché? Perché sono nociva Perché stai sempre alla finestra? Perché sono una gatta persiana Questa non l'ho capita Ah no, sì Ehi, ehi, ciao Ehi, ehi tu Ehi, ehi Sapete perché non considera la scimmia? Perché Cassie Giraffa Va bene Ok, raga Questo video finisce qui Trovate, come sempre Il link del video originale O in the description O nel primo commento Spero che questo video vi sia piaciuto Aspettate, raga Andiamo qui su YouTube Giriamo il telefono Siamo oggi qui riuniti Per celebrare il matrimonio Tra la pizza e l'ananas Se c'è qualcuno contrario a questa unione Alzi la Raga, ho lasciato il like Mi sono iscritto Meglio E per la continuazione Di quel video Arriviamo Ai 5 like Come avevo detto Nell'intro Bene Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre Aspettate un mi piace Iscrivetevi al canale E Per darvi Sono Aspettate un i